Musica And hi guys, siamo il DexZeroRoggi Sono qui con il video di vedere su Counter Strike Global Offensive E siamo su un deathmatch E appunto siamo su questo gioco Perché non so, ora in questo momento Non mi va di giocare a Minecraft perché Non lo so sinceramente perché non mi va però Cacca pupù E niente abbiamo subito trovato una partita Speriamo che non sia già iniziata Siamo nel nuke È un deathmatch come ho già detto E praticamente il deathmatch è molto semplicemente Vince più Quello che ha più punti Questo è un deathmatch a squadra Anche se non c'è scritto però è un deathmatch a squadra Perché appunto cacca pupù Volevo fare un video sinceramente di multiplayer Di Battlefield Out the Line Però Non sono sicuro Del mio ping Perché il mio ping Credo che sia tipo 800 miliardi di milioni E quindi se facessi Hardline Non so cosa cambierebbe Però cacca pupù Visto che avevo Counter Strike Qui davanti Ci sta mettendo 8 ore a caricare Però vabbè Ho detto vabbè Facciamo un video su Counter Strike Tanto Chi si è visto Non so cosa sto dicendo Però ok E se Counter Strike Inizia Io sto sentendo il mio eco No Ok Non lo sto sentendo Era una mia Impressione Oppure si No Si No Forse Boh Perché ci sta mettendo così tanto Siamo già Non so quanti minuti di video Io metto un Un timer Si un Metto un Un Si un timer Andiamo Ok Si non mi importa niente Del Blood Hunt Voglio andarne Ok Allora Prendiamo il mio SG Bellissimissimo E la Desert Eagle Ok Quanto ho di ping? 400 Fantastico Oh ciao Non ti avevo visto Perché ho un po' di ping Ok Mi sa che il mio Computer si sta aggiornando Perché ho un po' di ping E io E' strano Molto strano Che io abbia Così tanto ping Visto che ho una connessione Dello schifo Però Ok Allora lì ce n'è uno Che è stato killato Ciao ciccio Ciao ciccio Ciao ciccio Ok Eh Ah era Ok Mi sembrava strano in effetti Che Mi avessi killato lui Faccio un po' Abbastanza schifo In questo gioco Più che altro Perché non ho skill In questo gioco Cioè nel senso Non è che ci giochi tanto A questo gioco Perché Non lo so Più che altro Perché ci sono Aggiornamenti Praticamente Settimanali E io Praticamente Non ho internet Quindi non saprei Come Come appunto Aggiornare Cioè nel senso Ho internet Però è lentissimo E quindi non saprei Come aggiornare Velocemente il gioco E quindi quando ho voglia Di giocare Ci gioco Però tipo Passano le settimane A volte Perché appunto È tutto Oh mannaggia la pepina È tutto appunto Un po' Caccapopuoso Comunque Sto dicendo tante volte Caccapopu Non so neanche il perché Grazie Stinks Qui ce n'è uno Ciao Tito Non lo vedo Ok ciao Tito Non ti ho visto Ciao Tito Eccolo lì Ok C'è un altro qui L'avevo visto No era Era uno dei nostri Ciao Tito Sto Ok Grazie Della rubata Della kill rubata Però vabbè Ho 200 di ping Nel frattempo Grazie mille Però l'ho killato Fantastico Non so come Ma l'ho killato Ok Fantasticissimo Oh ma ciao ciccio Cioè tu avevi la vp Ok Ah già Ma forse molto probabilmente Perché era appena spawnato Vabbè Comunque Allora 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 C'è qualcuno Ho sentito qualcuno Sì ho sentito qualcuno Sì ho sentito qualcuno Grazie M4A4 Ok Sto facendo abbastanza schifo Questa partita E me ne rendo conto In effetti Ciao ciccio Ciao ciccetto Buffo Sì però Stinks Mi hai rotto Sai cosa Bravo L'ho killato Sì l'ho killato Non so come abbia fatto Però l'ho killato Grazie Cioè un pezzo di cacca Fatelo dire Con lo scar 20 Ok No la vp Io Sì so usarlo Però non sono molto bravo Con la vp Cioè nel senso Ci metto un po' a capire Come si mira con la vp Ecco Ok Non mi ha scalfito Grandissimo Tu mi hai scalfito Grazie Valium Valium mi sa che mi sta dominando Fra un po' Esce la scritta Ti sta dominando Perché io Come io sto dominando Sintix Perché l'ho tipo Killato 800 volte E ho solo 9 kill Quindi fantastico Ciao tizio Grazie Attarix Ok Mannaggia Ah no ok Scusa 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 Non ti ho Beccato Quindi Perf... No Tu sei un mio Amico Tu no E che cavolo Scusate se ho attaccato un compagno Non voleva essere una mia intenzione Tu Killati Da solo Ma non c'è Ok Ok Allora Intanto ho gli occhiali La montatura degli occhiali Che è tipo Grazie Che è tipo Mi sta distruggendo il naso Però non so il perché Sinceramente 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 Mi arrivano messaggi Ma io non rispondo Perché sono un bravo bambino E quindi Caccappu No Ho guardato il messaggio Non è importante Quindi non rispondo Se fosse stato importante Avrei Regalato la kill A Yuna Quindi Niente Oh ciao ciccio Ti ho visto Ti ho visto Anche tu mi hai visto Però hai visto anche l'altro Che ti ha Killato Mannaggia la pepina Messaggio speriamo Cioè nel messaggio C'è scritto speriamo Non vi dirò appunto Quello che ho chiesto Che ho detto Prima Però vabbè E si può Sintix si è vendicato Ora mi vendico io Sintix Sintix mi vendico io Basta Ho deciso Ora vengo lì E mi vendico Buongiorno Sintix è qua? No non è qua Sintix è qui? Potrebbe essere qui Eccolo qui Sintix No è Valium Ciao Valium Sono fra Aiuto Non t'ho visto Porca vacca Sintix No Azur Ok Ok Vabbè Ok Sintix mi ha superato Nella classifica Non mi va bene Non so chi sia questo Sintix Ma va bene Ok Cioè non va bene Ok avete capito Tu Ok bravissimissimo Ok Però io voglio fare qualche kill Se tu me le rubi queste kill Io non posso fare Sintix Questo è Sintix Me lo sento Me lo sento Questo è Sintix No è Tarix Ok C'è qualcuno dietro di me E io ho fatto caccapopù Ciao Non c'è nessuno dietro di me E io sono fra i primi dieci Fantastico Non è mai successa questa cosa Visto che io faccio schifo in sto gioco Per ora È un bot Ecco perché l'abbiamo killato così Easy peasy L'abbiamo squisi Sintix Sì Sintix Sintix Mamma mia ragazzi Sintix Siamo a cinque minuti di video Ma tanto ogni partita di Di deathmatch Su Su questo gioco qui Dura dieci minuti Quindi va bene Cioè nel senso anche se dura Undici minuti il video Chi se ne frega Cioè nel senso che Oh ma Valium sei un pezzo di cacca Fatelo dire Qui c'è qualcuno Mi lo sento No Non ho già te Chi è stato Boh non lo so Chi è stato Andiamo avanti Buongiorno Buongiorno Oh eccolo 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 Yuna Mamma mia Yuna C'è qualcun altro qui Me lo sento Eccolo Sintix Sei un pezzo di cacca Ok Allora Vediamo un pochettino Eccolo qui Bot Cioè Mi ha chilato un bot Mi ha chilato un bot Ok Faccio schifo in questo gioco Ok C'è qualcuno qua Ne sono sicuro Ok No Era un mio compagno Di squadra Bene Comunque Oh ma ciao Ciccetto buffo È un bot Questo No è Atarix Atarix Sei un pezzo di cacca Allora Sì Tutti quelli che mi killano Sono pezzi di cacca Lo sapevo Non so perché Non me lo sentivo Che era Valium Perché tu vali Perché tu sì che vale Non voglio fare lo spawn killer Solo che ero spawnato Vicino a lui O morivo io O moriva di lui Quindi cacca pupù Ciao ciccio Ma ciao No non c'è nessuno Ok Guarda io non vorrei dire niente Ma io non ho chilato Tutte e due Ma che cosa Ma che cosa Sintix Grazie di avermi salvato Da Sintix Grazie Perché l'avevo vista Cioè non mi giro io Se mi sparano non mi giro Io vado avanti Perché chi se ne frega Ma sì Mi stanno sparando E dietro c'era Sintix Ne sono sicuro Era Sintix quello Sintix Siamo a 8 minuti Oh ciao Sintix Sei Sintix No sei Gesso Gesso Ok Gesso Ciao Gesso Mi tagliarono il Gesso È quello che si unisce Aia però Ok Ma ciao ciccetti Cioè ovviamente Ci sono due Davanti E mi colpisce Quello a sinistra Ma è ovvio Tu sì che va Alex Sintix Sintix Che cavolo eh Si botta però Cioè cavolo Ah ma Mi hai rubato la kill Vaffanzolo Ma vacci un po' Oh ma ciao Sei morto No non sei morto Bene Ma ciao Mancano 30 secondi E siamo ancora 8 minuti di video Quindi questa partita Era già iniziata Fantastico E io sto andando 110 di ping Ragazzi È una cosa Mamma mia Cioè sono un pro Di internet Porca vacca Oh 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 Yuna Yuna sei un pezzo di cacca Ma proprio Di quelli Puzzolenti Proprio all'ennesima potenza E tu Sintix Mi hai rotto Sai cosa Ecco quello Bravissimo Sintix L'hai capito Io ovviamente Continuo a non girarmi E ovviamente Quelli che mi killano Si chiamano Sintix O Valium E niente ragazzi Visto che questa partita È durata 9 minuti e mezzo Io direi che Da Hendrix 088 Può essere tutto Vi ringrazio per la Visione del video Vi chiedo ancora Di lasciare un mi piace Commentare Condividere E se volete Iscrivetevi al mio canale Hendrix chiude Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie per la visione!